Questo è il posto dei grandi protagonisti, noi siamo solo gli appassionati. Ma la passione con queste macchine non è una cosa normale, bisogna avere un targo dentro. Allora, noi sicuramente non siamo normali. Eh, non c'è nulla normale, sono tutti contaminati, mi sento positivo. Bella questa macchina. Grazie, ho presentato. Grazie, facciamo due numeri, due traversini. Può darsi. Eh, e come sono tutte? Grazie a tutti. Grazie a tutti.